E questa è una delle zone dove ci sono i parcheggi per i residenti, vedete delimitati da strisce gialle, sono posti, effettivamente così è in questo momento, che possono essere occupati soltanto da chi qui ci vive che è in possesso del CityPass. Le immagini di Donatello Ricci ci fanno vedere com'è la situazione, questi sono i posteggi riservati, il dibattito ora è caratterizzato dall'ultima ordinanza della Polizia Municipale che sostanzialmente permette ai titolari di alberghi e bed and breakfast che hanno delle attività, delle strutture ricettive in queste ZRU che sono zone a rilevanza urbanistica di poter concedere dei posti che normalmente erano per i residenti ai loro clienti. E ovviamente qualche polemica come sempre c'è stata. Posti contesi all'Aquila tra alberghi e residenti è destinata a far discutere l'ordinanza del dirigente ad interim della Polizia Municipale Domenico De Nardis con la quale si autorizzano i proprietari di B&B e di alberghi del centro storico a far parcheggiare le vetture dei clienti in alcuni stalli normalmente riservati ai residenti che devono essere muniti di opportuno CityPass. Il provvedimento riguarda le zone a rilevanza urbanistica di recente individuate dal Comune nel cuore del centro. Ovviamente la cosa è sperimentale, ci sono dei paletti nel senso che ogni albergo avrà tre posti a disposizione mentre i B&B solo uno. Iniziativa sicuramente fatta nella direzione di andare incontro anche all'attività nel periodo estivo ma qualche polemica già si è mossa e sentita perché i residenti hanno spesso lamentato in questi mesi la carenza di parcheggi a loro riservati in centro. Sebbene il Comune sia intervenuto proprio ultimamente con 110 posti in più per i residenti senza contare però che spesso le regole non vengono rispettate e molte volte i posti dei residenti vengono occupati abusivamente anche se la Municipale in questo senso sta avendo la linea dura. Fatto sta che molti stalli sono ancora occupati da Deors, molti sono presi dai mezzi della ricostruzione e dai cantieri e la situazione insomma è complessa e ancora difficile da gestire. E mentre ancora non si plaga il dibattito sull'isola pedonale anche dei parcheggi si parla sui social. Qualcuno fa notare ad esempio che per i commercianti è consentito solo scarico e carico merce e così dovrebbe essere, sostengono alcuni, anche per i clienti delle strutture ricettive che possono scaricare tranquillamente bagagli e parcheggiare più lontano.